RDA in Italia è coordinato dal CNR. Se volete conoscere le nostre attività, i nostri eventi e essere sempre aggiornati rispetto a quello che facciamo, potete iscrivervi e diventare membri della nostra comunità attraverso il sito di RDA e nello specifico la pagina del Nodo Nazionale Italiano. Grazie, a presto! Grazie a tutti!